Ben trovati, l'ospite di questa sera di persone è Gerardo Bianco ed è un ospite graditissimo, questo lo dichiariamo senza problemi. Gerardo Bianco che è Presidente attualmente dell'Associazione dei Parlamentari in Pensione ma soprattutto per quanto ci riguarda Presidente del Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco De Sactis. Soltanto per chi non lo sapesse, ma lo sanno tutti, Gerardo Bianco prima di entrare in politica e diventare parlamentare, è stato ministro eccetera, è stato e continua ad essere per quanto ci riguarda un grande professore, un grande studioso, manco a dirlo soprattutto di De Sactis. Io partirei da qui Presidente Bianco, a Teatro Gesualdo ieri sera c'è stato di fatto l'avvio di queste celebrazioni che ci saranno nel 2017. Io vorrei un po' attualizzarlo. Oggi il pensiero di De Sactis applicato a questa politica, la politica renziana se vogliamo oppure a quella berlusconiana di qualche anno fa, il pensiero di De Sactis si troverebbe un po' a disagio e perché? Innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio per l'affettuosa presentazione, devo fare una correzione perché c'è un aggettivo di troppo quando hai detto grande studioso, sono uno che ama leggere i libri come consigliavano i nostri maestri, quindi dedicarsi sempre a non perdere il contatto con la cultura. La presenza adesso del De Sactis nel nostro tempo paradossalmente nasce da due motivazioni. Una è l'occasione del bicentenario della nascita, potrebbe essere la celebrazione di un grande studioso come sono stati altri grandi studiosi, nel passato è stato fatto per esempio il ricordo di Pietro Paolo Parzanese, un poeta importante, significativo della nostra provincia, ma De Sactis non è questo, come hai tu detto De Sactis è insieme un personaggio della storia culturale e politica, perché di solito viene dimenticata la dimensione politica, di una grande attualità, l'insegnamento del De Sactis per chi legge i suoi scritti ma anche per chi avvaluta la sua opera concreta politica è direi quanto mai importante, basti pensare per esempio a due questioni, una è in un momento nel quale il nostro paese viene dilacerato da spinte secessionistiche, dal particolarismo soprattutto regionalistico, De Sactis restituisce all'Italia il senso della sua unitarietà culturale e anche della importanza della visione unitaria e politica. Nel momento in cui soprattutto nella cultura meridionale stanno risorgendo in nome del meridionalismo di cattivo gusto il borbonismo e De Sactis si dà invece una lezione che cosa significava al tempo in cui lui operava il borbonismo che era in sostanza la sottomissione dell'Italia a potenza straniera. L'altra questione, De Sactis e il meridionalismo come sostiene Tony Germano e secondo me ha ragione, De Sactis con il viaggio elettorale del 1875 indica la strada del superamento degli antichi male del Mezzogiorno, conosce le persone, ne vede soprattutto della classe l'epoca borghese anche clericale, lo spirito per dire così retorico del Mezzogiorno e restituisce una grande lezione a tutti quanti noi, quella di una capacità di prendere in mano il nostro destino in termini soprattutto di dignità della persona, di dignità e di operatività, la vita come momento attivo. Ecco qui vorrei un po' attualizzare Gerardo, non riesco a dare del lei a Gerardo Bianco e né tantomeno a chiamarlo Presidente, vogliamo Gerardo come ci diamo del tuo in privato. De Sactis aveva capito tutto della questione meridionale prima ancora che la questione meridionale in qualche modo si formalizzasse. Poi Dorso, altro grande irpino, l'ha rilanciata. Gerardo, la questione meridionale è rimasta esattamente al punto in cui era, perché? Bisogna stare attenti perché come ha scritto in un libro recente, uno storico, bisogna stare attenti perché se noi continuiamo a dire che esiste la questione meridionale, pensiamo che la questione meridionale di oggi sia come quella di ieri, commettiamo un grosso errore, questo lo dite anche voi giornalisti quando io leggo i vostri scritti. Non bisogna dimenticare che il mezzogiorno di oggi non è il mezzogiorno del 1860 e non è pure il mezzogiorno che uscì dalla guerra. Il mezzogiorno di oggi è un mezzogiorno che mantiene, ahimè, le grandi differenze rispetto al nord, ma è un mezzogiorno che è entrato nella modernità. Se noi guardiamo la provincia di Avelina, oggi andiamo in giro, quello che viene praticamente criticato come il grande fallimento e tale non è che è la ricostruzione e noi vediamo che non c'è oggi paese della nostra provincia che non è dotato per esempio di un centro culturale che offre dei servizi di grande rilievo, il che crea delle permesse delle bra strutture sulle quali si operano. Lo stile di vita delle ragazze, dei giovani oggi è uno stile di vita che è molto vicino a quelli del nord. Dove sta la differenza? La differenza sta, è qui la nostra responsabilità, nel modo in cui noi in certo senso viviamo la vita sociale, la mancanza di senso della legalità, la mancanza di senso della responsabilità, una certa tendenza ad affidarci agli altri per risolvere i problemi invece di affrontarli da noi. Il fatto che per esempio in alcune strutture dello Stato, in alcune strutture pubbliche la operatività, la produttività come documenta la Banca d'Italia pura parità di investimenti e molto inferiori da quelle del nord. Noi dovremmo invece, qui il richiamo di Guido Torso alla responsabilità dei memorandani, dovremmo essere in grado di offrire soprattutto in alcuni settori delicati come quelli della scuola, come quelli della sanità, della ricerca scientifica, servizi che siano competitivi non con il nord ma con tutta Europa. Io dico sempre, noi dovremmo essere in grado di far sì che lo studente tedesco invece di andare se mai alla Sorbonne oppure a Osford, preferisca venire a Napoli, a Salerno o a Bari perché lì trova dei punti di eccellenza e noi siamo in grado di realizzare questo, purché ci sia maggiore responsabilità e soprattutto fiducia in noi stessi. È il contesto che determina un clima molte volte sfavorevole, a parte il fatto che poi c'è un grande elemento che è gravissimo, è pesante, è il peso della malavita organizzata. Ci sono aree nelle quali purtroppo la nostra provincia era immune, oggi ci sono delle situazioni che rendono anche il nostro territorio preoccupante, quando mi dicono per esempio che nell'Alta Irpina ci sono stati degli episodi piuttosto gravi, gli attentati a consiglieri comunali che si sono opposti per esempio al disordine dell'eolico, c'è da preoccuparsi, quando si vedono amministrazioni che sono percorsi da sospetti c'è da preoccuparsi, è chiaro che nella corruzione si impira la malavita. Quindi la grande questione, e qui torniamo a De Santis, è il recupero del senso dello Stato e del senso della legalità, che è la grande reazione che viene dal materialismo classico, quello di De Santis, di Pasquale Starello della Mancini, che viene da Giustino Fortunato, da Pasquale Villere, c'è la grande scuola del meridionalismo. Gerardo, questa autocritica fa bene, così come fa bene riflettere sulla necessità che siano le classi dirigenti meridionali protagoniste di un rinnovamento forte. Dorso, però non ritieni che oggettivamente, come sottolineano alcuni rapporti da Svimez allo stesso Censis di Delita, non ritieni che il mezzogiorno ancora oggi sia fuori dalle strategie delle politiche governative? Non mi pare che ci sia mezzogiorno anche nell'agenda Renzi e se lo rileva perfino un signore che si chiama Squinzi, presidente di Confindustria, non certamente meridionale, forse qualcosa di vero c'è? Sono d'accordo con quello che stai dicendo. Ecco, io ho insistito sulla responsabilità nostra perché, ammesso che ci fosse e sperando che ci sarà un maggior impegno dei governi per il mezzogiorno, tutto questo non è sufficiente se non c'è una capacità da parte nostra di realizzare praticamente da noi, usiamo pure un termine forte, il nostro risorgimento. Una delle questioni più importanti per esempio è la cooperazione. Le regioni meridionali hanno presentato per gli investimenti, come è noto dell'Unione Europea, una serie di progetti. Non si è riusciti a mettere insieme nessun progetto che sia collegato fra di loro, ognuno ha presentato delle priorità. La stessa cosa vale anche per le... il grande problema che oggi noi abbiamo è di riuscire a fare una programmazione che richiede cooperazione fra le comunità. Leggo per esempio che in provincia di Avellino si stanno realizzando quello che è un problema che io posi, pensa, 40 anni fa, quello delle città intercomunari. Sono queste le strade che vanno seguite, la cooperazione, l'impegno comune, anche perché l'impegno comune riduce gli spazi, per dire così, anche personalistici, che molte volte il potere personalistico prima o poi diventa un potere in qualche maniera anche deviato. Ecco perché la cooperazione, il fatto di controllarsi insieme aiuta. Ma la grande questione è anche quella, indubbiamente, che tu hai posto, cioè di un intervento più diretto da parte della mano pubblica. Qui torniamo alla grande questione del ruolo fondamentale, torniamo alla storia che ha avuto la Cassa del Mezzogiorno. La rivoluzione del Mezzogiorno è avvenuta negli anni che vanno dal 50 agli anni 70, dove è intervenuta la Cassa del Mezzogiorno. Quindi c'è bisogno, su questo hai ragione perfettamente, di un intervento pubblico massiccio. Renzi dice vogliamo completare le opere in compiuto, indubbiamente interpreta una cosa seria, cioè queste opere che sono state avviate, cose che purtroppo esistono ancora a cominciare dalle strade interrotte, dalla famosa autostrada per le Calabria, tutto una serie. Però è anche vero che non si può sviluppare mezzogiorno senza un intervento anche a sostegno delle attività industriali. Qui si ha messo un po' il dito sulla piazza. Gerardo, quanto sistema clientelare è rimasto ancora dai tempi di De Sanctis? Già lui aveva riflettuto molto, aveva sottolineato molto questo cancro del sistema clientelare che affliggeva il mezzogiorno d'Italia in modo particolare. Quanto ne è rimasto? Perché non ce ne liberiamo? Guarda, la tua osservazione, mi rievoca una frase importantissima che De Sanctis ha scritto nel 1865, quando bollando il sistema borbonico dice nel regno dei borboni tutto è Camarilla e regna un detto che fa vergogna. Il detto era chi non ha santi non va avanti. Ecco, lui usa questa espressione che era appunto il rischio vero della decadenza dei costumi che è il sistema clientelare. Io distinguerei perché ci sono delle esigenze che molte volte invitano a dare una mano a chi è in difficoltà. Non si può sottovalutare questo. Il problema è quando questo aiuto, che è solidarietà, si trasforma in clima, in sistema, in struttura di potere e questo è l'aspetto negativo che ancora indubbiamente regna. Dipende da molti fattori. L'assessore alla regione che vuole avere la sua clientela e quindi favorisce non i migliori o le esigenze primarie vere di una popolazione, ma chi in un certo senso fa la intermediazione impropria. Uno dei grandi problemi è la intermediazione impropria nel mezzogiorno. Questo è stato l'aspetto che ha in qualche maniera corroso la politica, che una volta comunque era corretta dai partiti e che oggi invece diventa più negativa attraverso soprattutto l'aumento del potere personale. Quando io sento per esempio dire che i presidenti delle regioni sono governatori, anche questo uso improprio dei termini, non sono governatori, sono presidenti, dovrebbero presiedere e quindi organizzare soprattutto programmaticamente lo sviluppo di una realtà regionale. Invece loro governano nel senso che sono quelli che prendono le decisioni che molte volte sono decisioni contrattate. Questo è l'aspetto negativo ed è, hai messo l'accento sulla piaga che a mezzogiorno esiste ancora. Riccardo, leggendo un po' di cose, ho notato che una cosa in comune con De Sanctis, tu ce l'hai però non ti schernire per cortesia. Tu sei stato ministro della pubblica istruzione, dell'istruzione, soltanto per dieci mesi, 90-91, luglio 90-marzo 91, De Sanctis fu ministro dell'istruzione più o meno per un periodo simile, almeno nel governo Cavour. Cavour poi fu con Ricasoli e poi è diventato ministro ancora nel 78 con Cairoli. Con Cairoli nel 78. Ma anche lì è bevita breve, perché poi se ne passò all'opposizione. Ma oggi abbiamo la Giannini con la buona scuola, no? De Sanctis, Gerardo Bianco, per citare due Irpini, la Giannini che certamente Irpina non è. Questa scuola come secondo te è evoluta o come si è involuta negli anni? Ovviamente sono cambiate le prospettive, non bisogna dimenticare che soprattutto nel Novecento, nella seconda parte del Novecento c'è la rivoluzione industriale, c'è la rivoluzione tecnologica, non la rivoluzione industriale, detto in termini imprecisi, c'è la rivoluzione tecnologica, c'è soprattutto l'intervento dell'informatica. Che cosa succede? Che l'accento viene posto soprattutto su questi aspetti fondamentali e importanti, che sono le rivoluzioni che vengono introdotte soprattutto all'informatica e si perde di vista quello che invece era molto presente nella cultura dell'Ottocento e soprattutto in De Sandi, cioè l'aspetto formativo. La scuola deve formare, la scuola non deve, per dir così, rimpinzare di notizie e di elementi puramente materiali. La scuola deve mettere lo studente, domani il professionista, in grado di apprendimento continuo, questo è il segreto e da questo punto di vista c'è bisogno di una riflessione che ancora una volta è difficile da realizzarsi, cioè fra l'equilibrio delle materie umanistiche da una parte e delle materie scendibili dall'altra, cioè la unificazione delle due culture, che è la grande scommessa della scuola. Ridurre la scuola a pura tecnicalità, a pure conoscenze tecniche senza dare la dimensione importante che l'umanismo dà alla formazione della persona è un errore, così come quella di restringersi non solo, soltanto nel classicismo, nella classicità, dell'umanismo, la scuola per esempio di Gentino, anche di Croce, anche questo è un limite, il problema è di saper trovare i tuoi equilibri e poi c'è la grande questione del continuo espandersi delle conoscenze tecnologiche che richiedono a chiunque oggi è pronto alla scuola la capacità di apprendere continuamente. E poi la terza grande sfida è la conoscenza linguistica, la conoscenza delle lingue straniere, almeno di una lingua veicolare ormai importante come l'inglese, che non sia soltanto il basic English, ma che sia una conoscenza anche più articolata, quindi è diventata più complessa la questione. Gerardo, prima Repubblica, seconda Repubblica, terza, non si capisce se ci stiamo dentro, se ne stiamo uscendo, sul piano squisitamente etico, dell'etica politica, si stava meglio quando si stava peggio o no? Come la pensi? Posso parlare abbattuto, non si stava peggio sicuramente, il periodo della prima Repubblica è la periodo della costruzione dello Stato democratico, ci sono stati i casi di corruzione, ci sono stati i casi che sono legati come è noto, ma è una questione che finalmente spero la storiografia sappia affrontare, che il finanziamento illecito dei partiti, il momento di guerra diciamo a livello, anche guerra fredda, ma guerra, come si diceva, a livello internazionale, sono tutti aspetti che devono essere tutti in gondo, con i partiti che avevano bisogno di avere grandi strumenti, non c'era peraltro questa corruzione diffusa che in qualche maniera tocca i politici, ma tocca soprattutto l'apparato burocratico, che oggi in possesso di maggiori poteri decisionali finisce senza freni, quindi la situazione è diversa, i partiti comunque erano elementi negativi, ma anche elementi di controllo, comunque diventavano delle occasioni in cui la gente doveva confrontarsi, il politico corrotto che era riconosciuto come corrotto, doveva comunque andare in una sezione e ci sarebbe stato sempre qualcuno che diceva ma tu hai fatto, oggi non si risponde più a nulla, poi entriamo in una logica di rappresentanza nominata, cioè la contraddizione della rappresentanza, la rappresentanza che il principio fondamentale della democrazia era legata al consenso popolare individuale, oggi se tu vieni nominato devi essere riconoscendo a chi ti è nominato, non all'elettore che in qualche maniera non ha più capacità di scelta, ecco perché lo dico subito, la democrazia è in crisi e va ripensata, oggi sotto certi aspetti nel popolo c'è più l'esigenza di avere sicurezza, di avere un'economia in qualche maniera robusta, c'è meno bisogno se non in ceti ridotti intellettuali di avere spazi di democrazia e spazi di libertà, non ci ripetichiamo che le comunità di solito privilegiano, il caso della Turchia lo dimostra, privilegiano l'aspetto della sicurezza rispetto invece agli aspetti fondamentali, poi via via si accorgono che la sicurezza in qualche maniera non c'è se non c'è anche la libertà. Io tengo due domande, due domande ancora, soltanto due domande. Rapidamente risponderò, grazie. La prima è, alla prima devo fare una premessa, Gerardo Bianco è stato certamente un politico che non si è arricchito con la politica, su questo non ci sono problemi, c'è la storia, no? È stato anche il politico che si è ritirato spontaneamente prima che la politica lo mettesse alla porta, la politica nel senso di elettorato. Che cosa rimpiange Gerardo Bianco della vita parlamentare e della sua vita politica? C'è un rimpianto? Io ringrazio l'affermazione della stessa, penso che sia un dovere di tutti essere corretti. la politica non può arricchire, però la politica nel banco se tutto praticamente viene condotto alla propria vita con misura, nel banco impoverisce, diciamo pure il sistema democratico consente di vivere dignitosamente e in qualche maniera di far vivere anche la propria famiglia dignitosamente, quindi non bisogna ne fare il pauperista, però la politica, se uno con la politica si arricchisce vuol dire che qualche misura non è stata mantenuta, ma nel banco si può dire che impoverisce, insisto su questo, si sta bene perché il sistema democratico ha consentito di vivere dignitosamente. Che cosa mi manca? E mi manca una grande cosa, la dialettica parlamentare. Io mi sono ritirato per una ragione molto semplice perché era anche il tempo, io l'avevo già fatto, mi ha dimenticato nel 1994, poi le vicende negative della democrazia cristiana mi indussero a tornare, ho fatto una bella esperienza al Parlamento europeo, volevo rifare quella e chiudere, invece mi fu impedito da vicende che preferisco non evocare, sono tornato alla Camera perché non volevo uscire completamente sconvitto, ho visto come un errore storico di cui secondo me i fatti che ci sono avanti ne dimostrano la validità, la fine del Partito Popolare erede della democrazia cristiana, non le invenzioni che sono state fatte successivamente, credo che ci siano delle pesanti responsabilità di molti personaggi che ancora operano in politica, farebbero bene a ritirarsi facendo un atto di penitenza e di perdono davanti a Dio per i delitti che hanno commesso contro il partito che li aveva animati, ho visto come errore gravissimo lo scioglimento del Partito Popolare e la convulenza del Partito Democratico che è una cosa comunque che esiste oggi e che ha una sua, purtroppo è l'unica realtà politica che merita come partito che merita di essere considerata come partito, però è stato un errore perché in qualche maniera uno dei grandi filoni della cultura politica italiana, quella del Cattolicismo di Mio Gradi ha perduto il suo riferimento politico, che cosa mi manca? Giudo, mi manca la vita parlamentare, già negli ultimi tempi io la sentivo estinguere, non c'era più il vero grande compronto, perfino la Toria che praticamente nel senso di Mio Gradi cominciava a essermi estranea, ho questa nostalgia. L'ultima domanda Gerardo, in breve ci regali una fotografia dell'Irpinia oggi, ecco l'Irpinia oggi in fotografia vista da Gerardo Bianco, come la vedi? Io la vedo come una società nella quale ci sono delle forze che ancora non sono emerse, diciamo non sono nate ma che esistono, ecco diciamo come un grembo pregno di positività e anche di potenzialità che prima o poi ci esprimeranno, non la vedo morta la nostra provincia, la vedo vitale e qui la responsabilità di chi amministra la provincia, i sindaci che sono fondamentali dovrebbero in qualche maniera fare un'opera socratica, quella maieutica, di far emergere e partorire queste energie che esistono. Bene, con questo messaggio di speranza, di speranza bella, fresca, verde di Gerardo Bianco io lo ringrazio per essere stato con noi e do la rivederci ai telespettatori alla prossima puntata di persone. Buonasera. Buonasera. Buonasera.